Ai concittadini caduti nobilmente sul campo dell'onore, i figli di Alvignano morti nella grande guerra. E questo è il titolo del libro scritto da Tommaso Tartaglione che è stato presentato sabato 5 novembre presso la sala consigliare del comune di Alvignano. Questo lavoro è il frutto di minuziose ricerche tra i fogli matricolari dei soldati che hanno partecipato alla grande guerra ma anche della collaborazione di alcune famiglie alvignanesi che hanno fornito documenti e foto autentiche dell'epoca. Il testo in pratica è un omaggio ai 45 soldati di Alvignano, piccolo centro della provincia di Caserta, caduti in battaglia oppure dispersi durante la grande guerra. A margine dei lavori abbiamo avvicinato l'autore Tommaso Tartaglione. Chi ti ha ispirato nella scelta di un tema così importante e a chi intendi dedicare questa tua opera? In effetti l'input per la scrittura di questo libro è partito dal centenario della prima guerra mondiale e in particolare dalla mostra che è stata realizzata presso il Palazzo Reale di Caserta tra fine del 2015 e inizio 2016. Quindi in quell'occasione è nata l'idea di scrivere un libro su tutti i soldati alvignanesi caduti al fronte e quindi il libro si compone in effetti di schede dei fogli matricolari di ciascun caduto, quindi con la storia al fronte, i combattimenti, come sono morti, in quali campi di prigionia sono stati chiusi e poi si conclude in effetti con la storia della realizzazione del monumento ai caduti fatto negli anni 30 e con il rifacimento della piazza dove è collocato il monumento. Cosa hai provato nel ricostruire passo dopo passo la storia di un paese come Alvignano che ha pagato tanto in termini di vite umane durante la Grande Guerra? Certamente è stato molto commovente leggere le peripezie che hanno dovuto sopportare questi nostri soldati perché poi erano contadini, persone umili mandati un po' al macello, insomma al fronte a centinaia di chilometri di distanza dalla propria patria, quindi è stato veramente commovente perché gente che è stata catapultata da un piccolo paese agricolo quale Alvignano in campi dove si sono affrontati eserciti con decine di migliaia di soldati in Europa, in Francia anche abbiamo avuto degli alvignanisi che hanno combattuto in Francia, altri chiusi nei campi di proginia sia in Germania ma in Serbia anche nei Balcani, in Austria, quindi certamente è stato commovente leggere in queste pagine le sofferenze dei nostri fratelli alvignanisi. Da Alvignano è tutto per casertasera.it, Bartolomeo Valentino.